deve forzare la mano per ottenere almeno il pareggio anche se c'è ancora molto tempo è rientrato intanto Battista Lucana ma attenzione il gol 3 a 1 bellissimo scavino col capolavoro con Mammarella in uscita da parte degli ospiti è stato liberato sul settore destro con un uno scavino eccellente Dimash ha liberato il suo compagno di squadra ancora Jelovic e poi la sfera termina imbucata nell'angolino opposto niente da fare per Mammarella quindi 3 a 1 pesantissimo